Caldo record e AFA in Campania, con i 41 gradi caserta, è la città più rovente, le alte temperature danneggiano i cavi elettrici e si ripetono i blackout. Al buio migliaia di persone lunedì sera nell'area collinare di Napoli, danneggiata la centrale elettrica di Melito, di qui lo stop alla fornitura idrica per le isole di Ischia e Procida, dove si stanno esaurendo le risorse dei serbatoi. Problemi anche in costiera amalfitana, ripristinata in queste ore l'energia elettrica da Amalfi a Trani, Maiori, Minori e Ravello. Il blackout ha interessato anche la processione di Sant'Andrea da Amalfi, a causa del buio investita una turista americana, binari roventi, ridotta la velocità su una tratta delle linee vesuviane, gestite da Eav e in strada si boccheggia. Insopportabile, siamo in una fase veramente acuta. È un clima molto, ma molto caldo. Speriamo che, penso che sarà qualche ora, che probabilmente si cambierà un po' il tempo. Tanto freddo, direi. È abbastanza pesante, sì, sì. Voglio stare a casa, come gli vecchietti, beve e al fresco. Noi veniamo da Genova, quindi non c'è umidità. Si sopporta ancora, sì. Anche i miei amici se ne soffrono tanto, ma io non lo soffro. Soffro molto purtroppo il freddo, purtroppo tantissimo. Intanto la regione ha approvato il piano antincendi boschivi, stanziati 19 milioni di euro, però la campagna resta nella morsa delle fiamme. A Pozzuoli si estende il ruogo sul Monte Barbaro, in azione Canadair e mezzi della protezione civile.